Ciao, questo è Francesco Ferreri e questo è il mio studio in Roma, Italia, nella mia scuola Total Guitar Academy e questo è il mio nuovo libro, The Pentatonic Scale for Guitare. Questo libro ti aiuterà a dimostrare la scuola più usata per Guitare, la scuola pentatonicica. Potete trovare molti esercizi, studi, diagrammi e il libro è un libro colorato, con le pagine colorate per una visualizzazione migliore di diagrammi, scelte, intervalli e molto più. Potete trovare molti esercizi in formato audio e questo libro è disponibile su tutte le strade Amazon. Quindi potete ordinare da USA, UK, Spagna, Germania, Francia, tutti. È in lingua inglese e spero che ti aiuterà a migliorare la tua scuola. Ci vediamo la prossima! Ciao! Ciao!